In Abruzzo sono circa 58.000 i cittadini senza medico di base, più o meno il corrispettivo della popolazione di una città capoluogo. Le ragioni sono tante e svariate e tra queste senza ombra di dubbio c'è il problema legato alla carenza dei medici di medicina generale causata dall'imbuto dell'accesso degli stessi alla specializzazione e dalla remunerazione poco appetibile della professione rispetto alla media dei colleghi europei. Non è un caso che quella dei medici italiani sia la comunità più numerosa in Europa con ben 10.000 professionalità sanitarie in fuga dal nostro paese. Il problema della carenza dei medici in questi giorni è tornato all'attenzione delle cronache sollevato dalla FIMG Abruzzo, la federazione italiana dei medici di medicina generale che chiede alla regione di attivarsi per garantire la copertura delle carenze alla luce dei tanti pensionamenti previsti nei prossimi anni. Mauro Petrucci, segretario regionale della FIMG, qual è la fotografia che avete scattato come federazione? Attualmente purtroppo c'è un grosso numero di comuni di zone che rischiano di restare senza medico soprattutto nelle aree interne perché il numero dei medici con la specializzazione per poter accedere alla convenzione è inferiore rispetto a quelli che sono stati i pensionati di questi ultimi anni. Ce ne saranno ancora, era una roba pensionistica che avevamo previsto da tempo ma nonostante tutto per le scarse risorse sulla sanità non sono state finanziate borse di studio sufficienti per il nostro reintegro. Questo si ripercuote maggiormente nelle aree interne perché avendo la possibilità il giovane medico chiaramente sceglie le aree urbane e metropolitane a scapito delle aree interne che hanno più necessità perché sono aree con popolazione anziana, con patologie croniche quindi che hanno più necessità di essere assistiti che però rischiano di trovarsi un po' squarnite da questo punto di vista. Con il mille proroghe la possibilità di andare in pensione a 72 anni posticipa il problema di qualche anno ingigantito invece dal periodo del covid dai tanti prepensionamenti anticipati a 68 anni. Per il segretario Petrucci però è necessario reperire nuove risorse tra i giovani medici aumentando le borse di specializzazione e l'appetibilità della professione adeguando dunque gli stipendi dei medici italiani a quelli degli omologhi del vecchio continente. Il problema non è il numero dei laureati, potrebbe sembrare questo ma il vero problema è l'imbuto formativo post laurea dovuto ai finanziamenti perché la specializzazione è retribuita quindi dipende da quanto la regione e l'università impiega per poter fornire i nuovi specialisti. Poi c'è una tendenza da parte dei giovani colleghi a migrare verso aree più appetibili sia dal punto di vista professionale che economico e quando parlo di aree parlo di tutta l'intera Europa. La federazione dei medici di medicina generale intanto è al lavoro per arrivare entro l'estate al rinnovo dell'accordo integrativo regionale fermo al 2006. La regione dal canto suo si è detta disposta a trovare una soluzione condivisa. Per ora siamo ancora in una fase interlocutoria dichiara il segretario Petrucci prima di sederci al tavolo delle trattative per capire quante risorse occorrono e dove reperirle anche per riempire di contenuto i contenitori delle case di comunità previste dal PNRR che rafforzando la medicina territoriale con l'obiettivo di alleggerire la pressione ospedaliera proporrebbe tra le soluzioni la possibilità di istituire gruppi di medici professionisti per un lavoro di squadra che sia migliorativo per la professione e per la prestazione finale all'utente.